Non ci vedrete mai fare cose di cui non siamo convinti che siano nell'interesse del Paese perché i partiti ce lo chiedono, né non fare cose che pensiamo siano nell'interesse del Paese perché i partiti ci chiedono di non farle. Questo è uno degli ultimi spessi della strada, il signor Schirò. Siamo io, Mario e ogni anno siamo qua col muro. Ogni anno siamo qui noi, già dal 1944 che saliamo tutti gli anni qui, tutti gli anni. Allora, che volete sapere? Come si chiama? Giacomo Schirò, un sopravvessuto di questa strada. Allora, dobbiamo andare perché ce l'è. Ciao, bella. Smi schirò. Smi schirò. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.